Grazie, grazie dottor Boschini, mi prendo un secondo solo per segnalare due spunti chiave che dottor Boschini ci ha offerto tra i tanti, in particolare questo della sensibilità imprenditoriale, qui abbiamo un investitore che ha citato il tema della fiducia, il tema della sensibilità nei confronti dei business emergenti, in particolare di quelli che dal punto di vista imprenditoriale avrebbero qualcosa da imparare dal rapporto con l'impresa. Credo che sia uno degli aspetti, al di là appunto della dimensione tecnica, degli aspetti fondamentali da segnalare. L'incontro tra chi produce cultura, questa e di altri tipi, e di chi la può finanziare, si fonda anche su una capacità di intendersi, di stabilire linguaggi su piani diversi da quelli strettamente finanziari, cioè dalla capacità sì del finanziatore di vedere l'opportunità di business, ma anche di vederci i modi per contribuire allo sviluppo più imprenditoriale delle produzioni culturali. E questo può forse essere recepito bene da chi di produttori cinematografiche si occupa personalmente, come Francesco Bonsambiante che è il nostro prossimo relatore, e magari chiederei a lui il suo punto di vista appunto su questo dialogo tra investitori privati e produttori. Francesco. Allora, io partirei da una, come dire, da una cortocircuito, no? Il tax credit è un grossissimo passo avanti, però finisce il 31-12 ed ha 2 milioni e 500 mila euro per ogni massimo, per ogni azienda. Per cui dopo quello che ha detto Boschini, noi facciamo un piccolo film scritto da italiani con attori internazionali tra un paio di mesi, uno dice vado subito a parlare, invece non si può, perché 2 milioni e mezzo è la soglia massima per una singola impresa e il 31-12, ahimè, finisce per il momento questo com. La speranza e l'auspicio e anche le promesse ministeriali sembrano quelle di un rinnovo per due anni fino al 2013. E questo credo che sia fondamentale come passaggio perché diventi strutturata questa cosa. Detto questo, mi rilascio a quello che ha detto il professor Panozzo e cito Committeri che ha detto che le imprese del cinema devono, in qualche modo possono migliorare imparando il modus operandi delle imprese terze attraverso il tax credit e Boschini stesso ha parlato di visione di esportazione delle opere all'estero, cosa che oggi il cinema italiano fatica a fare. Ecco, secondo me il vero valore di questo, come dire, ponte che si può creare tra imprese di produzione cinematografiche e imprese di produzione terze attraverso il tax credit è proprio qui, proprio questo è il punto importante perché le esperienze, le visioni degli imprenditori, soprattutto del nostro territorio, del nord-est, possono, come dire, stimolare ed aiutare le imprese cinematografiche italiane che spesso per quasi genetica ormai, per un centralismo del FUS, eccetera, hanno molto pensato a costruire un montaggio finanziario, anche prevendendo tutti i diritti o quasi tutti, per costruire il film. Una volta costruito e fatto il film, lì si ferma e questo è, dal punto di vista imprenditoriale, un non senso. Quindi io credo che il lavoro che va fatto, soprattutto da noi, è proprio nel cercare di, come dire, far capire alle imprese che il cinema può essere, le imprese terze, che il cinema può essere un mezzo di comunicazione, un ponte potente per portare i propri marchi all'estero in mercati nuovi, in nicchie nuove, per posizionamenti, eccetera, e dall'altra parte invece per le imprese cinematografiche a dialogare, a sedersi su dei tavoli, come dire, di un livello diverso, con una visione più legata alla, come dire, alla profittabilità del prodotto che viene costruito e quindi di far crescere l'intero sistema. Banca Intesa è stata la prima istituzione finanziaria a intervenire nel cinema. Due giorni fa, però, e questo è un buon segno per il Veneto, Banca Popolare di Vicenza, a un meeting di Anica su cinema e finanza, ha dichiarato di strutturarsi per affrontare il settore del cinema, che ovviamente è sempre stato lontano, è stato considerato ad alto rischio, eccetera. E questo, come dire, è una sensibilità nuova, le cose che ha detto Boschini sono assolutamente importanti anche per noi imprenditori, cioè il pensare a, come diceva prima il padre Silvestri, la convenio della Fondazione Rossellini, a presentare i progetti in modo diverso, con dei basi, dei piani finanziari, delle ipotesi di revenue per capire quelli che possono essere i risultati, oltre che una strutturazione forte del progetto. Quindi io credo che attraverso questo strumento, attraverso la nuova legge regionale cinema, che è una piccola cosa, però è un segnale forte, nel nostro territorio può essere disegnato nei prossimi anni una crescita del settore importante. Le condizioni, la condizione principale a mio parere però, è quella che, come dire, sia da parte delle imprese di produzione si lavori seriamente e quindi si diano le garanzie che si aspettano gli imprenditori, le cose che ha detto Boschini alla fine, sia dall'altra parte che non venga usato però il racconto di un film o un film esclusivamente come un mezzo di promozione del proprio prodotto, ma anche con una condivisione del progetto, del contenuto, della storia, di modo che la condivisione partecipativa sia proattiva e non prettamente economica, finanziaria o di vendita del prodotto, perché altrimenti ci sono altri strumenti come il product placement che è più che sufficiente per certi aspetti. Grazie. Sì, ritorno alla parola. Soltanto una parola per dire che, anzitutto che noi speriamo che il rinnovo sia tre anni e non due perché c'è una differenza. La seconda cosa importante è che il termine del 31 dicembre, il termine per fare l'apporto da parte dell'investitore esterno, il film può uscire nelle sale entro il 31 dicembre 2011, parlo a legislazione vigente, questo lo dico perché c'è una nota del Ministero dei Beni Culturali del 4 giugno dove chiarisce appunto che il 31 dicembre è il termine per fare l'investimento, quindi vuol dire che film che sono in corso di definizione, ancora non sono partiti, possono in questi tre, quattro mesi che mancano alla fine dell'anno, anche con la normativa vigente, possono incassare delle somme e poi uscire entro il 31 dicembre 2011. Grazie. Volevo approfittare per fare un rimbalzo su una cosa che è stata detta. Gli esempi sono stati di banca, abbiamo Banca Intesa, abbiamo Banca Popolare Vicentina, si riuscirebbe a concepire un investitore dal manifatturiero, dall'industriale e come sarebbe? Sì, secondo me e secondo noi sì, assolutamente sì, le banche hanno un vantaggio competitivo, conoscevano già il settore, quindi appena la norma è diventata operativa loro sono state inevitabilmente le prime ad operare, però a mio parere non bisogna focalizzarci troppo soltanto su grandi investitori e grandi somme, voglio dire trovare un investitore che investe un milione o trovarne 10 che investono 100 mila euro per il produttore è la stessa cosa, è un po' più difficile ma è la stessa cosa, probabilmente è addirittura meglio e secondo me quanto più bassa è la somma degli singoli investimenti o tanto maggiori possono essere valutazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economico-finanziarie, perché non sta a me dire, non è il mio mestiere, però sicuramente c'è una valutazione che deve essere fatta sugli effetti di comunicazione, sul fatto che comunque associare il nome di un'impresa a qualcosa di culturale, magari ad una storia particolare, ad un evento particolare, io mi aspetto che se abbiamo tre anni di rinnovo che ci sia addirittura una definizione dei progetti di film dopo aver parlato con gli investitori, cioè che si trovino gli investitori prima e si facciano i film anche sulla base di quello che un investitore magari può volere, può esserci un investitore che mette volentieri 100 mila euro su un certo film ma se il film è diverso ne mette 500 o ne mette un milione, io questo non lo so, però a mio parere non c'è un limite settoriale, la banca è stato il caso di banchi intesa che tra l'altro appunto ringraziamo perché ha dato risalto in maniera pubblica l'importanza di questa misura che ritenevamo l'avesse, però secondo me assolutamente non c'è limite, ci auguriamo che arrivino più comparti possibile. Sì, questo è particolarmente vero a nord-est dove le imprese non sono di grandissima dimensione e quindi le risorse che eventualmente potrebbero mettere a disposizione sarebbero corrispondenti anche alla loro taglia, quindi sarebbero la ricerca immagino di progetti più compositi, più articolati. Francesco? A riguardo che è proprio così nel nostro caso, noi iniziamo le riprese di un film l'8 di novembre e stiamo dialogando e concludendo con alcune imprese venete anche importanti con una piccola entrata perché hanno creduto nel progetto, proprio nella struttura del progetto, quindi dalla casa di produzione fino a chi l'ha scritto, ma soprattutto si sono innamorati della storia e hanno capito che quella storia andava condivisa dalla loro filosofia e quindi questa è la dimostrazione, non posso ancora far nomi né nulla, però ci sono delle imprese venete che hanno già digerito che cosa significa e con le quali mi sono confrontato esattamente su questi termini di cui parlava Boschini. Grazie. Grazie.